Ehi ciurma, qui è Capitan Mazzetes che vi parla e siamo in un nuovo video di Mindtest Come va? Tutti bene? Perfetto, perfetto, tutto bene Cosa può andare male nel mondo di Mindtest? Niente, proprio niente Comunque, allora, dopo i lavori dell'altra volta che mi hanno richiesto parecchio tempo Ma sono soddisfatto perché altri due iscritti ci sono stati nel frattempo e ho avuto buonissime visualizzazioni la scorsa settimana Adesso avevo proprio bisogno di fare un altro video perché avevo bisogno di fare un altro video in più Avevo voglia di giocare un altro po' a Mindtest, dato che ho un periodo in cui non gioco molto Allora, l'obiettivo di oggi sarebbe quello di creare una cosa che in realtà volevamo creare già un po' di tempo fa Ma che ci mancavano... ma di cui... per cui... la quale... chi è stato... Per cui ci mancavano i diamanti che sono andato a raccogliere nel frattempo Allora, innanzitutto, come vedete, la ricetta è abbastanza complessina, diciamo Potremmo partire dal farci il copper ingot, ma iniziamo dalle parti più complesse La parte più complessa è l'electric motor, direi Quindi electric motor... Non cerchiamo come si crafta un electric motor Ok, allora, 6 steel e un copper e quelli ci sta Però questi sono dei copper coil Copper... coil Che si fanno con gli altri fari di copper, se non sbaglio, appunto Steel e fine copper wire Fine copper wire, per farne i due ci servono 3 tizi Allora, noi servivano 2 copper coil Quindi 8 fine copper wire E quindi per 8 fine copper wire ci servono 8 diviso 2, 4 4 per 3, 12 copper ingot Abbiamo così tanto copper? Eh, sì, dai 12 copper ingot Mettiamo qua Nella fornace ci facciamo 12 copper ingot Nel frattempo, mentre aspettiamo quel ragazzino Vediamo un attimo cosa ci serve anche Ci servono per i copper coil 4 per 2 di ferro Quindi dovremo cuocere anche del ferro Poi per il electric motor ci servirà anche Altro ferro e altro copper Per cui non abbiamo problemi Per diamond head Eccola E mi sbaglio Premendo invio non cerca Ma esce Diamond drill head Ho bisogno di 4 diamanti E 4 stainless steel ingot Per gli stainless steel ingot Abbiamo bisogno di 3 iron dust E 1 chromium dust Però alloy cooking Mannaggia Volete vedere che non abbiamo A noce Diceva 3 iron E 1 chromium Per 4 Ne abbiamo bisogno di 4 Più 4 Se non sbaglio 3 ferro e 1 chromium E ricordiamoci 3 ferro e 1 chromium 3 ferro e 1 chromium 3 ferro e 1 chromium No non si chiama diamond drill Si chiama drill Mining drill Quindi 6 ferro e 2 chromium Ci serviranno 6 ferro 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 2 chromium Ne abbiamo abbastanza Oh si E li mettiamo qua 6 ferro e 2 chromium Vediamo se è giusto Si Perfetto Allora questo è finito Intanto E abbiamo del Copper E quindi Mettiamoci a craftare Innanzitutto I Gli 8 copper wire Ok I copper wire ce li abbiamo Adesso avremo bisogno di Uh È veloce sta fornace Mi piace Per quello Abbiamo bisogno Tipo Che fossero disposti Così Vediamo 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Perfetto 1 e 1, 2 Eccoli qua Poi abbiamo bisogno Di che cosa L'electric motor Electric motor Ecco qua 6 stilingot e 1 copper ingot 6 e 1 copper Perfetto 3, 4, 5, 6 E 1 copper Perfetto Questi intanto li mettiamo a cuocere Detto che ha finito qua Con il ferro Allora Detto ciò Abbiamo L'electric motor Ci serve Il diamond Drill Head 4 diamanti E 4 stainless steel Ingot No non quei diamanti Questi 2, 3, 4 E 4 Stainless steel Quindi 1, 2, 3, 4 E 1, 2, 3, 4 Perfetto Eccola qua Adesso Ci manca ancora Mining drill Sempre a cercare Diamond drill Head Ce l'abbiamo Electric motor Ce l'abbiamo Questi ce l'abbiamo Questo ce l'abbiamo Ci serve un red energy crystal Che è fatto Con un blocco Di diamanti Di sicuro E poi con Ok Diamond block Quello non ci sono problemi 2 gold ingot Ok Dovremmo fare Le re battery E red dye Red dye Credo di averceli Da qualche parte Allora Innanzitutto prendiamo I due cosi di oro Un 2 Ehi Un 2 Perfetto Le mettiamo a cuocere Poi I due Vanno nel grinder Per fare Red dye Non mi ricordo più O vanno cotti Ah no Ecco Perfetto Me ne ha già dati i due Quindi da questo punto di vista Siamo a posto Rimettiamo la rosa qua I due gold Ci servono 9 diamanti E poi pensiamo alle re batte 1 2 3 4 9 10 Beh dai Ho sforato di uno Cliccando a caso Quindi Le re battery Adesso ci pensiamo Comunque una ricetta Non troppo complessa Quella dei Dei mining drill Le re batteri Allora Quello L'oro L'oro L'abbiamo Ehm R battery Eh si Dovevo forse scrivere Qualcosina di più Ah no Eccola Uh uh Allora 4 per 6 24 pezzi di legno Copper Copper tin Copper Tin non ne abbiamo cotta Quindi ci servirà della tin 23 dovrebbero bastarci Si Ce ne serviranno 4 In realtà Però vabbè Cuocere un po' di più Non fa male Allora Andiamo a dormire Siamo stanchi Ho sentito gli occhi pesanti Giorno Good morning Good morning To say hello To the world Good morning Good morning To you Ok non facevo così 6 per 4 24 Quindi facciamo così Qua sono 2 3 4 1 2 3 4 4 Tin Copper Copper 1 Il problema delle riebatterie Che non sono staccabili Quindi Vedete Una alla volta Oh cos'è questo? Bronze ingot Ma non me ne frega niente Il bronze ingot Anzi non ce ne frega niente Il bronze ingot Adesso dovremmo fare solo la Parte finale Cioè di mettere tutto insieme Ah no Scemo Dovevamo finire Red Eccolo Red angel NLV crystal Diamond block in mezzo 4 ore battery 2 gold 2 red Perché l'ho chiuso? Ma sono un incapace Sono un incapace Ma secondo me è lo studio che mi fa male Non è vero che lo studio che fa male Per forza È lo studio per forza Ok allora Adesso vediamo se mi ricordo tutto Così 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 E così Sì Che memoria Che memoria Man in drill mk1 Adesso credo di doverla mettere a ricaricare Se non Sbaglio Esatto Infatti ci metterà un po' Perché richiede parecchia energia Tra l'altro forse dovremmo poi fare anche la La bot box media Insomma Giusto per Ah guardate Vedete quegli alberi là dietro Adesso vado a raccontarvi una bella storia Beh bella È una storia Insomma Mentre lavoravo off camera Per lo scorso video O per questo video Non mi ricordo più Ho notato che degli alberi che avevo piantato Venivano fuori così Cioè senza foglie Ma vi sono preoccupato Sono andato a chiedere a Sul canale IRC Per quale strana ragione Non Non venivano le foglie E mi hanno detto che era un problema Della versione di mine test Che avevo io Una versione Non stabile Insomma Una versione Dev Diciamo Cioè quella che c'è qua Vedete che Dev Vuol dire che in fase di sviluppo Non è una release Un rilascio ufficiale Insomma Quindi è quello Con più bug E balle varie E questo qua appunto Era un bug Per cui la generazione degli alberi Era un po' Fallata Bugata E quindi Le generava senza foglie Adesso ho aggiornato Poi la versione di mine test Adesso sono quella Forse non l'ultima L'ultima Ma quella comunque Di una settimana O due fa Dovrei aggiornarla di nuovo Suppongo Però lo farò Quando ho tempo Quindi Boh E niente Quindi se per caso Vi trovate in una situazione Del genere Suppongo che siete Nel mio stesso caso In cui dovete cambiare C'è un bug E comunque La storia ci insegna Che E' sempre importante Chiedere Per provare Il mining drill Però vorrei Andare in una zona Dove non facciamo danni Insomma Ecco Tipo qua sotto E' una buona zona Per sperimentare Vuoi che ne dite Mannaggia Proviamo Allora Di qua Mi pare che Con Con shift No con M C'era un modo Per cambiare Le Le modalità No No L'ho droppato Vieni a me C'era un modo Un tasto Che tasto era? Mi sembrava che si potessero cambiare Le modalità Ah No Chat Y W I I E' l'inventario Scemo che sono P L M K Ah ma no 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 clip Proviamo innanzitutto Ah va così Ma forse erano i modelli successivi Che Adesso spero che non si swappi l'audio Come è successo Quando ho provato il 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 raggio laser Come si chiamava Cioè Mina istantaneamente Tipo ogni blocco Così sono i modelli successivi Che hanno le varie Potenzialità Scusatemi Io questo Cioè Su Maintest appunto Era un po' che non ci giocavo Da quando Quando ho ripreso A fare video Quindi Credo che possiate scusarmi Comunque questo E' il nostro Caro bellissimo Mining Drill MK1 Appena avremo la possibilità Credo che sia Più che altro Possibilità Nel senso di Abbastanza Risorse Abbastanza materiali Andremo a fare Farci un Drill MK2 Ho rovinato troppo La storia qua No Vabbè Intanto non si vede Non giriamo di qua Vabbè Poi il massimo La copriremo In futuro Quella Quella Mega Cava Se per caso Avessimo bisogno Di Coprirla Di andare di là Di Usare lo spazio di là Ok Allora La mettiamo qua A caricare E cosa faccio Ah dobbiamo mettere a posto Un po' di roba qua Cos'è che ho Nell'inventario Sono andato a raccogliere Della roba Ma forse ancora Roba vecchia Che avevo Nell'inventario Tempo fa Copper Vanno qua Eeeh Steel Vanno qua Quali Me li tengo Dietro Ma che scemo Ma si può essere così scemi Sono le robe che ho appena raccolto Adesso con il Il mining drill Copper Zinco Tin Lo zinco Si Non avevo Dello zinco Ah si No Eccolo Grindiamo Tutto Allora poi Tipo così Vola O no Anche di più Comunque Mangiamo Ha mangiato Si Eeeh Mentre facciamo Quello Cioè mentre in realtà Spostiamo Quello Di cui avevamo parlato L'altra volta Cioè facciamo Quel Tipo Laghetto Laghetto Vanno detto qua Dove ci mettiamo Le sugarcane Potremmo metterci anche Un'isoletta Tipo la in mezzo Così Tipo Così No Comunque dicevo Mentre pensiamo A fare questo Eeeh Vorrei parlarvi Di due cose Per cui volevo fare Un video post Eeeh Separato Però Alla fine L'ho fatto una volta Ma mi era venuto male Quindi ho detto Non lo carico Perché faceva schifo Eeeh Appunto Allora ve ne parlo adesso Mentre facciamo Questo piccolo laghetto Parlo di Due cose Ho detto Allora La prima Sono le serie Future Per questo canale Allora Ci sono Tre proposte Principalmente Che mi sono state fatte Eeeh Due Riguardano Mindtest E una no Partiamo Da quella che riguarda Mind Da quelle che riguardano Mindtest Sì direi di sì Comunque allora Quelle che riguardano Mindtest Sono Allora Punto uno Una serie Sul Pacchetto di mod Che è alla fine Come una fork Di Mindtest Normale Cioè Che è Overcraft Non stesso Lo conoscete E' un progetto Che vuole Rendere Mindtest Più simile Possibile A Minecraft E quindi Ha un sacco di mod Come l'inventario Cambiato La crafting table Eeeh Altri oggetti Che si trovano Tipo la redstone E balle varie Eccetera eccetera Che è Ancora in fase Di sviluppo Quindi questo Ve lo dico Assolutamente Perché Eeeh Cioè E può essere Buggato Mancano delle parti Non è di sicuro Come un Minecraft Quindi Non Non sperate Che se io faccio Una serie su quello Venga come una serie Su Minecraft Perché E' molto diverso Cioè Non diversissimo Però E' diverso Non da la stessa Esperienza di gioco Di Minecraft Eeeh Appunto Quella è un'opzione La mod si chiama Overcraft Non so se l'ho già detto Eeeh Detta quell'opzione La seconda opzione Sarebbe quella di Fare Eeeh La seconda opzione Per mine test Sarebbe Quella di fare Una Una serie Hardcore Non so se avete Mai giocato a Minecraft Minecraft In Minecraft Una Una partita Hardcore Insomma E' quando si crea Un mondo Con una difficoltà Impostata Per forza A No credo che questa Non venga A Airbus Perché Do lascio il cane Da zucchero Con la modalità Impostata Fissa Su hard Difficoltà Eeeh Eeeh E appunto Quando muori Una volta Il mondo Si cancella Cioè non puoi più giocare Su quel Su quel mondo Eeeh Su mine test Non esiste Questo di base Però Si potrebbe fare Una storia Del tipo Io Faccio una serie Con Una mod Con i mob In questo caso Si pensava Di Usare la Mob framework Che è una delle Due più importanti C'è quella Simple mob Anche se Simple mob E' un pochettino Meno Avvincente Diciamo Anche se Comunque Di sicuro Più leggera E appunto Di far Che Appena Appena muoio Finisce la serie Una cosa del genere Questa può essere Un'idea Anche Interessante Non ho mai provato Una cosa Del genere Potrebbe essere Anche divertente Non è detto Che la mod Cioè che io Utilizzi solo Quella mod Ma Può darsi Che io Utilizzi altre mod Tipo Armature Anche se Non so Se sono compatibili Con Con Quella mod Con Mob framework Oppure Comunque L'arco Throwing La mod Throwing Di Pilsadam Che ho anche qua Ma che non ho mai usato In questa In queste serie E' In modo da poter Combattere Diciamo un pochettino Più decentemente Contro Contro i mob Detto questo Le due serie Su Mindtest Le due proposte Per Mindtest Ve le ho dette Vi è Un'ultima proposta Che sarebbe Che è Una serie Su The Legend of Zelda Il Quello proprio Originale Quello del Degli anni 80 87 Forse Se non sbaglio E sarebbe Di sicuro Una cosa Interessante Io non ho mai Giocato Completamente A quel gioco Mi hanno consigliato Appunto Ce n'è una versione Per computer A parte Emulatore Balle varie C'è una versione Proprio pensata Direttamente Per computer E E Quindi Ho detto Boh perché no Si può pensare Di fare una cosa Del genere Vorrò ingrandire La chest Qua E quindi Quella è l'altra Proposta Il gioco Di per sé Si chiama Zelda Classic Forse Vabbè Comunque E Queste sono Le tre Proposte Che ho ricevuto Oltre a Continuare Questa serie Io Queste serie Ci tengo Perché Mi piace Questa serie Anche le mod Che utilizzo Il pacchetto Di mod Che utilizzo Mi piacciono E E quindi Oltre a Questa Metterò In descrizione Un link Per un Sondaggio A cui Vi invito Assolutamente Di rispondere Cioè Non posso dire Vi obbligo Però quasi Sentitevi come Moralmente Obbligati E Tanto Vi chiede Un anno Secondo Della vostra Vita Lascerò Questo Sondaggio Valido Per Due settimane Circa Metterò Comunque La data Di scadenza Sempre In descrizione E Appunto Alla fine Chi La serie Che avrà Ricevuto Più voti Verrà Verrà Selezionata Per essere Per essere La seconda Serie Diciamo Del canale Oltre a Mindtest Che sarà La principale Cioè Oltre a Mindtest Questa Mindtest Insomma Quella con cui Ho iniziato Il canale La seconda Cosa È Un progetto Tra l'altro Siamo già A 24 Minuti È un progetto Di cui Avevo già Parlato io Ma che mi è Stato anche Ricordato Da Da un Iscritto Ed è Il Fare Una Partita Una Giocata Con gli Iscritti Questo Deve essere Ancora Un attimo Pensato Cioè Osto io Il server Però Credo che Lagherebbe La bestia Quindi Suppongo Su un server Già esistente Tipo Non lo so Quello di Vanessa E non so Se conoscete Il server Di Vanessa È un server Con creative Molto carino Su cui Ho giocato Ogni tanto Adesso Ultimamente Non più Non più Non più Ho giocato E Mannaggia Quante No Perché Non posso Metterla Che barba E questa Posso Metterla No No Eh vabbè Comunque Ehm Dicevo 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 Forse dovrei aggiornare Le mod Perché Mi perdo Ragazzi Mi perdo Stavo dicendo Ah si Da partita Con gli iscritti Per Innanzitutto Bisognerà vedere Se ci sono abbastanza Persone interessate Quindi Proprio per questo Metterò Sempre No Non metterò niente In descrizione Mi stavo confondendo Ehm Mettete Un commento Se per caso Siete interessati A partecipare Alla Alla partita Con gli iscritti La data è da destinarsi E' ancora molto Da decidere Però appunto C'è l'idea E Ehm Scriveteli un commento Voglio partecipare Ecco magari anche Delle Dei Delle idee Del tipo Vorrei che facessimo Vorrei che fosse Il Martedì Alle due di notte Piuttosto che Vorrei che Tu lo registrassi Eccetera Eccetera E per questo Vi dico Assolutamente Metto una scadenza Entro Quindici giorni Sì Quindici giorni Dall'uscita Del video Quindi Voi contate Quindici giorni Dalla data Che c'è scritta Sotto il video E i commenti Fino al quindicesimo giorno Verranno tenuti in considerazione Non è detto che si faccia Perché se nessuno Scrive nessun commento Non la faccio Cioè Cosa faccio Una partita degli iscritti Con me Da solo E E niente Quindi potrebbe essere Una cosa carina Per di più Annuncio che abbiamo superato I dieci iscritti Siamo a undici iscritti Evviva E quindi potrebbe essere Una cosa carina Ho detto e quindi Troppe volte Scusatemi Devo imparare a parlare Meglio Con questo Dato che siamo arrivati A 27 minuti E Ho fatto anche il laghetto Spero che sia venuto Un po' discreto Oh qua posso ripiantare Una canna Una canna Oddio Che senso No vabbè Una canna da zucchero E Io Vi saluto Ciao Ciao